Donoso Cortés è la critica della modernità e della democrazia. Se si volesse individuare il più feroce e spietato critico della modernità e della democrazia, lo si potrebbe ragionevolmente ravvisare nel filosofo spagnolo Joan Donoso Cortés, vissuto tra il 1809 e il 1853. Egli in effetti fu tra i più aspri critici della modernità e in particolare della sua prassi politica specifica che è per Cortés la democrazia. Sicché l'opera e il pensiero di Donoso Cortés si pongono a tutti gli effetti come una sferzante requisitoria contro la democrazia identificata con il tratto quintessenziale della modernità. In verità, al tempo degli studi universitari a Salamanca-Siviglia, Donoso Cortés aveva maturato originarie idee di stampo liberale e progressista, aveva letto le opere di John Locke e di Condiliac, aveva studiato Rousseau e Voltaire, ma rapidamente il suo liberalismo iniziale si andò attenuando. E tra il 1847 e il 1848, in concomitanza con vicende anche personali, la coerente testimonianza di un amico cattolico e la morte di un fratello, ma poi anche in coerenza con esperienze politiche. Alludiamo naturalmente alle rivoluzioni divampate in tutta Europa, di cui Donoso Cortés poteva lutare in prima persona gli effetti in qualità di ministro plenipotenziario della Spagna-Berlino. Ebbene, alla luce di queste esperienze, sia biografiche, sia storiche e oggettive, Donoso Cortés si convinse dell'erroneità delle dottrine moderne e al tempo stesso si convinse dell'unica e piena verità del cattolicesimo. Da quel momento Cortés divenne uno spietato critico della modernità e della democrazia e abbracciò il principio tradizionalista cattolico. Tutte le sue energie vennero da quel momento spese a denunziare gli errori del pensiero moderno e ad affermare l'insostituibile ruolo del cattolicesimo, sola via per preservare l'Europa dal caos e dalla tirannide. La testimonianza più ricca e articolata delle concezioni di Cortés improntate a un rigidissimo tradizionalismo cattolico è la lettera che egli invia nel 1852 al cardinal Fornari. Il cardinal Fornari gli aveva chiesto un giudizio sui principali errori filosofici e teologici dell'evo moderno. E questo scritto, che sarà anche utilizzato da Pio IX al momento della redazione del sillabo, si presenta a tutti gli effetti come un testo logicamente rigorosissimo e assai penetrante. Donoso Cortés denuncia i gravi limiti dell'ideologia liberale e naturalmente anche di quella socialcomunista che si stavano sempre più affermando e imponendo in Europa. Donoso Cortés rivendica, come si diceva, il cattolicesimo come base alternativa sia al liberalismo sia al socialcomunismo. Il cattolicesimo è la sola via per preservare l'Europa dal caos. Donoso Cortés, che verrà studiato attentamente anche da Carl Schmitt, fu un uomo di successo, fu un deputato, fu un oratore forbitissimo, fu consigliere del re, fu un diplomatico, un filosofo, e le sue opere ebbero rapida e intensa diffusione in tutta Europa, andando a coinvolgere la formazione di uomini come Ranke e Schelling. Tutto ciò tuttavia non lo distolse dall'impegno attivo che lo portava a vivere profondamente la sua fede cristiana, con preghiera, ascesi e anche con la carità. La morte lo colse appena 44enne a Parigi il 3 maggio del 1853. Come si diceva, una sola è l'ansia che appare dominante nella figura di Donoso Cortés, ed è quella di rendere testimonianza alla verità cattolica, senza cedimenti e accomodamenti. E in questo caso si può dire, senza tema di smentite, che più volte Donoso Cortés si spinse ad abbracciare posizioni estreme. Sicuramente non gli mancarono mai la capacità di analisi e di comprensione della realtà, che lo fecero in effetti apparire quasi un profeta in grado di prevedere alcuni degli sviluppi poi intervenuti nella storia e nella cultura europea. Donoso Cortés si ispira moltissimo ad Agostino di Ippona e giudica pessimisticamente la natura umana. Critica con durezza l'ottimismo razionalistico dei filosofi, quell'ottimismo che crede ingenuamente nella bontà innata dell'uomo, nella rettitudine degli istinti, nella positiva autosufficienza della ragione. E, naturalmente, nell'orrore del progresso illimitato, ciò che Donoso Cortés critica spietatamente. Così scrive Donoso Cortés. Ebbene, al centro delle riflessioni di Donoso Cortés sta il concetto di ordine divino. L'ordine divino è il fondamento primario tanto del creato quanto della storia. La natura e l'umanità risultano sorrette per Donoso Cortés da un complesso di leggi che le governano. Il sovvertimento di tali leggi causa i mali che affliggono il mondo. L'erroneità delle ideologie liberali, socialiste e comuniste, deriva proprio dal fatto che esse non riconoscono e non rispettano l'ordine divino. Il cattolicesimo, invece, è la migliore forma di sapere e di tradizione perché accetta quell'ordine e di più lo tutela e lo difende. Il grande valore della libertà umana è a più riprese sottolineato da Donoso Cortés. La libertà umana raggiunge la sua pienezza allorché si conforma ai comandi divini e invece si perverte nel momento in cui compie il male distanziandosi da Dio. Il peccato originale, che per primo alterò l'ordine voluto in origine da Dio, continua ora a condizionare negativamente i singoli uomini e la storia nella sua totalità. Coloro che non si rendono conto di tale drammatica evidenza e che negano la forza del peccato non sono poi in grado di capire né l'uomo né le vicende storiche. Le vicende storiche sono caratterizzate, spiega Donoso Cortés, da un titanico scontro tra bene e male, tra una gigantomachia, potremmo dire, del bene contro il male. Le rivoluzioni sono figlie del peccato, da che infrangono l'ordine politico, proprio come il peccato spezza l'ordine etico. Figlio del bene, invece, è l'ordine. L'ordine deve essere ovunque restaurato perché ciò è nei piani stessi di Dio. Così scrive Donoso Cortés. Quest'ordine consiste nella superiorità gerarchica della fede sulla ragione, della grazia sul libero arbitrio, della provvidenza divina sulla libertà umana, della chiesa sullo Stato e, per dirla tutta in una sola volta, nella supremazia di Dio sull'uomo. Solamente nella restaurazione di codesti eterni principi, nell'ambito religioso e dell'ordine politico e sociale, dipende la salvezza delle società umane. Questi principi non possono essere riattivati se non da chi li conosce, e nessuno li conosce se non la chiesa cattolica. Parole chiarissime a quelle di Donoso Cortés, che difende a spada tratta naturalmente l'istituto della famiglia, la struttura gerarchica della società, il potere e l'autorità che lo esercita. Per questo Donoso Cortés cerca sempre le profonde motivazioni teologiche che sorreggono queste sue certezze politiche, ed è convinto che gli errori dei moderni scaturiscano tutti dal misconoscimento delle basilari verità religiose predicate e difese dal cattolicesimo. Sotto questo riguardo possiamo dire che Donoso Cortés è convinto che l'Europa si stia scristianizzando e che una parte importante sia giocata dalle filosofie ate e progressiste, nonché dalle rivoluzioni. La democrazia è individuata come il male principale sul piano politico. Essa è da individuarsi con la classe discutadora, la classe che discuta, la classe chiacchierona, potremmo dire, e che nel discutere finisce per non decidere mai nulla, resta intrappolata nelle sue stesse interminabili discussioni. La democrazia quindi è il male peggiore, è il frutto più perverso della modernità e della scristianizzazione. Simili critiche anticipano quella che alla democrazia muoverà nel Novecento Carl Schmitt, che non a caso si rivolgerà proprio alla filosofia di Donoso Cortés. Etichetterà appunto la democrazia come discussione che non mette in discussione se stessa. Sia Cortés sia Schmitt, come antidoto alla democrazia e i mali che da essa rampollano, propongono il decisionismo. Il decisionismo significa di fatto far prevalere sulla discussione la decisione e l'agire. Questo è il fulcro del pensiero politico di Donoso Cortés, che verrà anche poi ripreso, mutatis mutandis, da Carl Schmitt. Grazie. Grazie.